E' per lo sprint a 18 atleti, il gran finale di gara qui a Vertola, attenzione alla volata a centro strada, è volata ancora a centro strada qui a Vertola con la maglia dell'accontri. L'applauso è tutto per noi signori, è per un grande, grandissimo Luca Mozzato, Italia, tutto l'euro, 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 l'euro. I'm busy with rock'n'roll, baby, straight ahead on an easy way, get up with a bad half day by day. Don't bat on a wrong horse, I say do it anyway, for better or for worse, well have it your own way. I got the eight ball, such a dream, yeah! You say nothing at all, feels fucking great! The higher you go, the deeper you fall, you can always wait. The deeper you are, the higher you go, you have to be a bum, such a thing! I'm busy with rock'n'roll, I say do it anyway, for better or for worse, well have it your own way. I got the eight ball Such a trick, yeah You say nothing at all Feels fucking great The higher you go, the deeper you fall You can always win The deeper you are, the higher you go You have to deal with such a trick Don't be stupid, don't be blind Watch out, use your fucking mind Don't be stupid, don't be blind Watch out, use your fucking mind I got the eight ball Such a trick, yeah You say nothing at all Feels fucking great The higher you go, the deeper you fall You can always win The deeper you are, the higher you go You have to deal with such a trick 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 Questa è la vittoria più prestigiosa della mia carriera perché non avevo mai vinto una corsa internazionale come questa e sono felicissimo anche per come è arrivata perché è stata una gara sebbene corta molto tirata sin dall'inizio e è andata via appunto questa fuga di 17 corridori che alla fine è arrivata. Dopo ce lo siamo giocato all'ultimo chilometro dove sono andati via due ragazzi uno sloveno e un corridore del romagnano. Io sono partito dal gruppo li ho ripresi e tenendo dritto ho guadagnato quel margine che mi ha permesso di arrivare da solo. E' davvero molto bravo ad entrare nella fuga poi le tue doti nello spunto veloce le conosciamo già a campione italiano anche negli allievi una bella vittoria la dedica a chi va? La dedica va sicuramente alla squadra perché grazie ai direttori sportivi e anche agli sponsor io sono qua e lo devo soltanto a loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.